Lezione le ricerche in arco for web La lezione di oggi è dedicata alle ricerche presenti nel nostro sistema gestionale. Tutte le anagrafiche e tutti gli archivi all'interno dei quali sono registrati i nostri record possono essere visualizzati, ordinati e filtrati per effetto delle nostre ricerche. Stiamo nel dettaglio e vediamo come. Entriamo nell'area Amministrazione all'interno del menu Modifica prima nota. Stiamo visualizzando le registrazioni contabili. In questa maschera si avrà la possibilità di ordinare la tabella secondo le seguenti ricerche Codice di registrazione, Data di registrazione, Codice fornitore, Numero fattura acquisto anno, Anno numero fattura per le fatture di vendita, Protocollo di acquisto IVA e Descrizione del movimento. Secondo la scelta effettuata si potrà così ordinare la tabella. Questa è la ricerca classica che potrà anche essere effettuata facendo un clic sui titoli presenti al di sopra di ogni colonna. Ma vediamo una instante gestione di ricerca denominata Gestione Filtri Maschera. Questa seconda tipologia la possiamo attivare facendo un clic sull'icona imbuto verde presente nell'area Comandi. Vediamo qual è il suo significato e come funziona. La gestione ha l'obiettivo di filtrare la tabella isolando i movimenti contabili secondo un mix di ricerca inserito nei campi della gestione. Facciamo un esempio. Voglio isolare tutti i pagamenti che vanno dal 1 di agosto al 30 di settembre. Voglio isolare quei pagamenti che vanno dal 1 di agosto al 30 di settembre e che hanno il codice causale 100. Ecco che abbiamo filtrato la tabella dei movimenti contabili. Tutti gli altri movimenti in questo momento sono nascosti. Abbiamo così ottenuto agevolmente le nostre informazioni. Possiamo disabilitare questa gestione utilizzando il tasto del filtro con la X rossa. Cliccando quindi il tasto apposito, la tabella nuovamente ci visualizzerà tutti i movimenti. Una gestione analoga sarà disponibile all'interno delle ricerche presenti nell'help area. Facciamo un esempio. Entriamo ad esempio nell'anagrafica clienti. Selezioniamo un cliente ed entriamo nella sezione commerciale, nella modalità di modifica, per entrare ad esempio nell'help area dei codici di pagamento. Abbiamo quindi la possibilità nell'ambito dell'help area di gestire i filtri. Vediamo come. Voglio cercare tutti i pagamenti che hanno all'interno il numero 30. Inserisco quindi il carattere percentuale 30. Voglio cercare tutti i pagamenti che hanno il numero 30 ed il numero 90. Nuovamente inserisco il carattere percentuale e il numero 90. Desidero cercare un pagamento che ha il numero 30, 90 e le lettere seguenti, quindi percentuale, data fattura, fine mese. Ecco che abbiamo filtrato la tabella dei codici di pagamento e stiamo visualizzando l'unico pagamento che ha dentro di sé il numero 30, il numero 90 e le lettere di FM. Abbiamo così agevolmente trovato il nostro pagamento.